Scarcerato il militare quarantenne in servizio a Roma ha arrestato lo scorso 7 febbraio dai carabinieri di Frosinone con l'accusa di estorsione e maltrattamenti in famiglia. Stava tentando di estorcere 200 euro, soldi come ha spiegato durante l'interrogatorio che gli servivano per pagare la riparazione dell'automobile della madre. A rifiuto della madre, come sostiene l'accusa, ha dato in escandescenza ed ha cominciato a danneggiare i mobili. Al contrario, il militare rispondendo all'interrogatorio ha sostenuto di essere stato percosso dai genitori. Non sussistendo sufficienti indizi a carico del militare, l'avvocato Alfonso Sant'Angeli ha chiesto alla scarcerazione o l'applicazione di una misura meno gravosa del carcere. Carcere invece richiesto dal pubblico ministero Barbara Trotta. Il giudice Valchera ha chiesto anche per il militare il provvedimento di divieto di avvicinamento alla casa dei genitori.